Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La domanda può essere presentata telematicamente attraverso il sito dell'Inps usando le proprie credenziali e accedendo alla propria area riservata. Pensioni, l'Inps eroga 330 euro al mese A. Ecco quali sono i requisiti. Anche non avendo ancora compiuto i 67 anni di età, le normative attualmente in vigore consentono di poter andare in pensione anticipatamente. Infatti, chi soffre di una malattia invalidante che lo rende inabile al lavoro, può beneficiare della pensione di invalidità, ma solo se la malattia viene riconosciuta invalidante in maniera permanente. L'indennità prevista ogni mese è di 333 euro e 33 centesimi al mese. Questa misura viene erogata a chi viene riconosciuto in valido totale e a un'età tra i 18 e i 67 anni. Come ha avuto modo di chiarire l'Inps con una nota ufficiale, l'assegno viene erogato in 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. In alternativa, la prestazione viene erogata alla data indicata dalle commissioni sanitarie preposte alla valutazione. Solo se l'invalidità viene riconosciuta attraverso i sistemi previsti per legge, l'invalido può presentare la domanda apposita, indicando i propri dati fiscali, sanitari e reddituali, oltre alla modalità di pagamento o della delega di riscossione da parte di un terzo.